Domenica 18 settembre ci sarà una manifestazione molto importante a Rotonda Diaz e in tutta la città. L'idea è quella di Napoli per Napoli, una partecipazione dell'associazione e di tutti i cittadini per la dimostrazione dell'affetto verso la città attraverso l'intervento di cura nei confronti dei nostri giardini e dei nostri parchi. È una regia in particolare dell'assessore Alverde ma a cui noi abbiamo partecipato come assessorato e come azienda sia con grandissimo entusiasmo. Sempre il 18 e ancora alla Rotonda Diaz ci sarà una dimostrazione degli angeli del mare che effettueranno una ripulitura degli arenili e del fondale dell'antistante alla Rotonda.